Sembra proprio il momento giusto per parlare dell'allegoria dell'agnello e del lupo. Il modo col quale rispondiamo a questa allegoria, prendiamo posizione, ci dice in qualche modo dove siamo, ci dice dov'è la nostra società. Uno sguardo lineare, semplice, morale, potrebbe riconoscere il lupo come cattivo e l'agnello come buono, come vittima. Questo è sensato, questo è comprensibile, il lupo aggredisce e l'agnello è aggredito. Oppure, poi ci sono gli originali, li vedete senz'altro. Gli originali sono quelli che vogliono essere un po' creativi, avere una posizione diversa contro corrente, contro il mainstream e riconoscono i poteri occulti che stanno dietro e allora dicono Ah, chi in realtà sembra essere il lupo è l'agnello e l'agnello invece è il lupo. E tutti cascano nell'agguato e si credono intelligenti a riconoscere, si credono di essere, di avere capito, di avere compreso le cose. Ma sono semplicemente l'altra faccia della stessa medaglia. Che cos'è che a mio avviso non vedano? Pensiamo alla frase di Cristo, offri l'altra guancia. Secondo voi cosa significa? Sarebbe banale credere che voglia dire voltarsi e offrire l'altra guancia alla schiaffo. L'altra guancia, l'altro modo, invece di colpire, per esempio, rispondi con amore. Rispondi con lasciarti colpire, rispondi con andare oltre. E quindi, come fai ad andare oltre? Come dicevamo, non è senz'altro nel dualismo che vai oltre. Andare oltre vuol dire andare oltre il dualismo, colpire o subire. Vuole dire andare oltre il giudizio. E allora vuole dire, a mio avviso, a mio modesto parere, entrare nell'accettazione, nell'osservazione, nella consapevolezza qui ed ora di quello che sta succedendo. Se tu esci dalla giudizio, esci dal tempo, vai oltre la mente e entri nell'accettazione. E comprendi come accettazione non vuol dire va tutto bene, va bene qualsiasi cosa. Accettazione vuol dire ogni cosa è al suo posto. Non potrebbe che essere così. E allora, quando tu accetti, incominci a diventare consapevole e ti accorgi, per esempio, che il lupo e l'agnello sono un'allegoria. Appunto. Ti accorgi che quello che sembra il lupo e quello che sembra l'agnello, in realtà, sono due attori su un palcoscenico che stanno recitando una parte. Pensa a una pièce nella quale c'è il lupo e c'è l'agnello. E il lupo non può che fare il lupo e l'agnello non può che fare l'agnello. Il lupo non può che aggredire o quantomeno, cercando di sopravvivere, quindi facendo la cosa giusta per sé, mangiare l'agnello. E l'agnello non può che cercare di difendersi o chiedere aiuto per non essere mangiato. Questo è il perfetto così. Se tu stessi guardando una pièce del lupo e dell'agnello, non avresti nessun dubbio sul fatto che è giusto così. È la natura. E qui viene in gioco la consapevolezza. Ah, aspetta, ma questo è un gioco. Questa è una rappresentazione teatrale. Questa è una rappresentazione di qualche cosa che c'è dietro le quinte. C'è un regista, c'è un copione. E soprattutto, poi dopo, quando ti togli la maschera dell'agnello e la maschera del lupo, sei un essere umano. Quindi, attraverso l'accettazione, l'osservazione e la consapevolezza, noi possiamo accorgerci di quelli che sono in psicologia transpersonale, si chiamano gli archetipi. Qual è il gioco archetipico che c'è dietro? E possiamo accorgerci che nel momento in cui l'archetipo passa di lì, il lupo passa di lì, non può che fare il lupo. E l'agnello passa di lì, non può che fare l'agnello. E allora, cosa vuol dire questo? Facciamo la pace. Chi non vuole la pace? Io credo che non ci sia nessuno al mondo che non desidera la pace. Ma il mondo è costantemente in guerra, da sempre. Quindi, ci sono diversi modi di ritenere cosa voglia dire fare la pace. C'è chi può ritenere, c'è il momento nel quale fare la pace vuol dire mangiarsi l'agnello. E c'è il momento nel quale fare la pace vuol dire sostenere l'agnello perché non venga mangiato. O altri nei quali sostenere il lupo. O altri nel quale cercare una possibilità perché il lupo e l'agnello convivano. Ma tutto questo è legato al momento. E se manca l'accettazione, soprattutto se manca l'amore, qualche cosa d'altro che tutti citano, dobbiamo essere in pace e amarci, va bene. Ma c'è qualcuno, secondo voi, che non vuole essere in pace ed amarci. Cosa vuol dire mettere l'accettazione e l'amore di fronte allo spettacolo del lupo e dell'agnello? Vuol dire amare il lupo con la sua aggressività? Vuol dire amare l'agnello con la sua debolezza? Vuol dire amare i limiti dell'agnello? Vuol dire amare i limiti del lupo? E da questo atteggiamento di accettazione e di consapevolezza, ecco che arriva la soluzione creativa. Il flusso creativo ci porterà a comprare la giustazione. Ma non c'è giustazione senza accettazione e senza amore. Per tutti gli attori in gioco. Per ogni manifestazione del vivente. I buoni e i cattivi. Caino e Abele. Perché è evidente che se il cattivo per qualcuno è il buono per noi, e il buono per noi è il cattivo per qualcun altro. Dov'è la differenza? L'amore vuol dire amare i limiti di ciascuno. Il buono e il cattivo. E allora noi ci abbiamo provato ad accettare senza giudizio e amare i limiti del buono e del cattivo e le qualità del buono e del cattivo. Io credo che a questo punto, così facendo, noi ci troviamo in condizione di comprare la giustazione. Quel flusso creativo della coscienza, che in psicologia si chiama sé, a fiore ti guida a comprare la giustazione. Sia che tu sia un essere umano ordinario che scrive sui post su Facebook o che manda i suoi aiuti ai bisognosi o che fa le petizioni. Sia che tu sia un giornalista che scrive, un letterato, sia che tu sia un capo di governo che deve prendere la decisione delicata rispetto a questo gioco. Quindi proviamo a introdurre la medicina dell'accettazione, dell'osservazione e della consapevolezza. Forse sarà più facile guardare con amore ognuno lo spettacolo che è in gioco, vedere l'archetipo che sta agendo dietro, vedere l'essenza vera e quindi comprare la giustazione, che nessuno ci può dire prima. Qui è d'ora, è presente. Con accettazione e amore possiamo trovare la giusta azione.